Buonasera, mi chiamo Giovanni Cerchia, sono un ordinario di storia contemporanea che lavora presso l'Università degli Studi del Molise. Questa sera sono onorato di essere ospiti dell'Arci di questa cittadina che voglio ringraziare per aver organizzato in occasione del centenario della nascita del Partito Comunista una riflessione su uno dei grandi protagonisti di quella vicenda che era Giorgio Amendola, un punto di frontiera, un punto di confluenza tra le migliori culture e le politiche del Paese ed è un modo anche per raccontare nel bene e nel male l'originalità dell'esperienza di quel partito, il modo in cui si è radicato nella storia nazionale, il modo in cui ha parlato a un mondo fatto di milioni di uomini e donne che hanno trovato in quel soggetto un punto di riferimento. Siamo qui per discutere di questo in maniera informale, provando in qualche maniera a farlo senza nostalgie ma con la consapevolezza dell'importanza di quel passato.